Edizione provinciale Bari, Bat e Foggia. Oltre 1100 giudizi in un anno, più del doppio rispetto al 2020, con pandemia in corso e personale tagliato di qualche unità. E il bilancio della Corte dei Conti di Puglia tracciato durante l'inaugurazione delle attività del 2022. Antonella Fazio. Massima attenzione ai soggetti privati per settori di fondi pubblici, soprattutto in agricoltura, PON e POR, da fondi strutturali come Invitalia per l'imprenditoria giovanile e l'autoimprenditorialità. Nonostante il numero delle forze in organico sia stato ridimensionato da 9 a 6 unità e l'emergenza pandemica, la Corte dei Conti della Puglia fa segnare un aumento dei giudizi rispetto al 2020 di 7 unità, passando da 49 a 56 nel 2021. Sono i primissimi numeri snocciolati dal presidente dell'ente, Francesco Paolo Romanelli, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022. Con lui il procuratore regionale Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, insediatosi solo qualche mese fa. Tra i numeri della Corte dei Conti, le 50 udienze nelle quali sono stati iscritti a ruolo 126 giudizi contro i 104 del 2020, venendone definiti 106 a fronte dei 54 dei 12 mesi precedenti, un più 96,3%. Quasi raddoppiate anche le sentenze di condanna per un danno complessivo di 6,3 milioni di euro, mentre quelle di definizione alternativa del giudizio sono state 13 rispetto alle 4 del 2020, 28 invece le sentenze di assoluzione. Nei due diversi ambiti di attività giurisdizionale a distanza di valore, gli vizi di responsabilità amministrative e gli vizi pensionistici, sono stati definiti complessivamente più di 1.100 vizi, con un sensibile incremento più del doppio rispetto all'unità. E con un conseguente forte abbandimento dell'arretrato, accumulandosi in detto anno, soprattutto nel convenzioso pensionistico che è stato in pratica diventato, riducendosi a diretti del tutto che si conosce. E quali sono i rapporti commerciali della Puglia rispetto ai luoghi colpiti dal conflitto? La regione è importatore netto tanto dall'Ucraina quanto dalla Russia. Non solo grano ma anche cereali e ortaggi e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio. Numerose intanto le assunzioni di lavoratori originali di entrambi i paesi. I primi effetti cominciano a vedersi, ma il rischio è che sia soltanto la punta dell'iceberg. La bilancia commerciale della Puglia rispetto ai territori colpiti dal conflitto è passiva. La regione è importatore netto tanto dall'Ucraina quanto dalla Russia. Nel primo caso, nei quattro anni tra il 2017 e il 2020, sono arrivate merci per un controvalore annuo compreso tra i 120 e i 150 milioni di euro, mentre ne sono state esportate tra i 9 e i 18 milioni con un trend ascendente. 200 milioni il valore delle merci transitate importate dalla Russia, salvo che per il 2019, nel quale l'import ha superato i 450 milioni di euro. L'export avviato verso la Russia a partire dal territorio pugliese si assesta tra i 45 e i 65 milioni di euro l'anno. Dall'Ucraina arrivano nello specifico prodotti di culture agricole non permanenti, cereali o ortaggi, ma anche grassi vegetali e animali. Nel 2020 anche minerali metalliferi ferrosi, mentre si sono azzerate le importazioni di prodotti della siderologia, che prima erano decisamente rilevanti. Dalla Russia arrivano antracite e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio. Nel 2019 quasi un terzo delle importazioni ha riguardato il petrolio greggio. E dalla Puglia, per il paese di Kiev partono abbigliamento mobili prodotti del tessile, ma anche da forno e farinacei. Per la Russia anche preparati farmaceutici, oltre che dal 2018 anche macchine per impieghi speciali. Numerose le assunzioni di lavoratori originali di entrambi i paesi, fenomeno di dimensioni ancora maggiori, se si considerano anche altri movimenti come proroghe o trasformazioni del rapporto. Si fingerebbero volontari della Croce Rossa Foggiana per approfittarsi della solidarietà dei cittadini nei confronti del popolo ucraino e derubarli per dei beni donati. Ascoltiamo l'appello del Presidente del Comitato Foggiano della Croce Rossa Italiana al microfono di Antonella Davola. Si sono viste truffate perché avvicinate da queste persone hanno dato quanto più potevano. Ovviamente poi ci hanno chiamato per chiedere conferma e noi purtroppo abbiamo dovuto dir loro che sono state ingannate. E questo ci dispiace molto perché grande è il cuore di tutti gli italiani, grande è il cuore dei foggiani che sono pronti sempre a aiutare gli altri, però questi episodi non devono mai accadere. Si fingerebbero volontari della Croce Rossa Foggiana per approfittare dell'emergenza in Ucraina ed impossessarsi dei beni donati dai cittadini convinti di destinarli alle popolazioni colpite dalla guerra. Veri e propri atti di sciacallaggio, quelli scoperti dalla Croce Rossa di Foggia che tramite i profili social sta cercando di verificare quanto accaduto nelle scorse ore per poter sporgere denunce alle autorità. Questo è l'appello rivolto alla cittadinanza per evitare di ritrovarsi in questa spiacevole situazione. Siamo stati contattati da numerosi cittadini che ci hanno informato che ci sono delle persone che si spacciano per volontari della Croce Rossa, del Comitato di Foggia e chiedono aiuti, aiuti come donazione di alimenti, di abbigliamento, di medicinali ma la cosa ancora più grave è che chiedono soldi in contanti. Quindi io avviso tutti i cittadini di diffidare di queste persone, di farcene segnalazione e ricordo loro che le uniche donazioni per Croce Rossa pro-Ucraina sono quelle fatte al 45525 con sms oppure chiamata da fisso o da mobile e su un IBAN che troverete su Comitato Nazionale Croce Rossa Italiana. Una grande fiaccolata per la pace in centro a Bisceglie per manifestare vicinanza ai popoli colpiti dal conflitto. Dal palco le toccanti testimonianze. Ilaria Delvino. La pace di Ucraina con queste luci è come se il tutto cuore prende la forza. Un no corale sentito alla guerra, la solidarietà al popolo ucraino, l'appello al cessato il fuoco e alla pace è quello che tanti cittadini, associazioni, studenti delle scuole biscegliesi, sindacati, comunità parrocchiali hanno voluto esprimere prendendo parte alla manifestazione Bisceglie per la pace in piazza Vittorio Emanuele. Fuori la guerra dalla storia è il titolo che il comune della Batta ha scelto per l'iniziativa organizzata insieme alla rete della pace dei diritti, alle scuole e alla zona pastorale di Bisceglie. Un appuntamento che malgrado il freddo pungente ha visto una sentita e folta partecipazione. La piazza è stracolma ed è un messaggio davvero bello e importante quello che oggi viene dalla comunità biscegliese, quindi è una grande soddisfazione e un orgoglio. Le testimonianze di cittadini ucraini si sono susseguite durante il presidio che si è tenuto per oltre due ore. Mia madre che ha 83 anni e non ha potuto più uscire, non ha voluto neanche lasciare la sua casa. Mia sorella con la sua famiglia che stanno aiutando adesso i bambini, che stanno facendo di tutto per aiutare i bambini che sono stati evacuati da orfanotrofio di Chio. L'amministrazione comunale di Bisceglie, in collaborazione con la Caritas Cittadina, ha allestito un punto comunale di raccolta di aiuti umanitari in Largo Castello 34, nei pressi della Torre Maestra, aperto da lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. Si parlerà anche di guerra, di quanto sia influenzando la nostra economia nel corso della nostra trasmissione Labirinti, condotta dal nostro Antonio Bucci, che vedo già collegato dal suo studio. Antonio, buonasera. Eccoci, buonasera, buonasera Claudio. Esattamente, stasera raccontiamo la Puglia che non sta a guardare quella del vertice di questo pomeriggio, in videoconferenza tra Michele Emiliano e il console generale d'Ucraina Napoli Covalenco, per mettere a punto la macchina degli aiuti. Un carico che partirà già domattina dalla Protezione Civile di Modugno, nel Barese, alla volta del centro di stoccaggio dell'Abruzzo. E che stasera, vede tutti al lavoro con la Protezione Civile, le ASL, andremo in diretta da una delle tante associazioni che stanno preparando i pacchi e i soccorsi, anche per capire quanto regga questa macchina, che cosa serva perché sia a pieno regime. E poi però c'è anche un fronte eminentemente economico, quello dei numeri che abbiamo appena ascoltato e con i quali ci chiediamo, sì, ma quanto resta sul nostro territorio di quello che sta accadendo? La Puglia è importatore netto, tanto dall'Ucraina quanto dalla Russia. Numeri alla mano, proveremo a capire che cosa cambia per i nostri comparti, a partire da quello agricolo che rischia di essere al centro di una tempesta perfetta. Insomma, proviamo a tenere tutto insieme, come sempre, stasera alle 21. Appuntamento davvero interessante, grazie ad Antonio Bucci. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Dopo due anni di pandemia si rimette in moto il settore wedding. A Terlizzi la presentazione del progetto tra murgia e mare. Vediamo di cosa si tratta. Dopo un biegno di pandemia ricco di difficoltà, anche il settore del wedding si prepara a ripartire in grande stile. Cambia l'immagine e l'idea del matrimonio, tante le richieste. A Terlizzi è stato presentato il progetto tra murgia e mare, il cui scopo è in particolare quello di promuovere e valorizzare il nord della Puglia, intanto soprattutto sul matrimonio di destinazione. Il tutto anche in collaborazione con Divine del Sud, associazione benefiche di volontariato che si occupa di attività sociali a tutto tondo e dallo stesso tempo di valorizzare e promuovere i territori pugliesi e lucani. Ai nostri microfoni il direttore artistico e wedding planner Luigi De Nicolo. Nel 2021 subito abbiamo avuto un grandissimo esploat perché arrivavamo già da due anni di lockdown e quindi di fermo. Il 2022 è ancora un anno che ha uno strascico con dei picchi molto alti di richiesta di matrimoni perché nel lockdown sono stati rinviati tantissime date. Quindi comunque anche nel 2022 abbiamo ancora delle richieste molto molto alte. Sarebbero stati estrumessi dall'armonizzazione delle indennità di amministrazione gli ispettori del lavoro che questa mattina si sono ritrovati sotto la sede del lungomare Trieste a Bari. Antonella Fazio. Al momento da chi dipendete allora? Bella domanda. Dall'INL però non è né il ministero del lavoro né il ispettorato e si cerca casa. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è una vera e propria beffa ai danni del personale. I lavoratori sarebbero stati estrumessi dalla norma che prevede l'armonizzazione delle indennità di amministrazione per tutti i dipendenti dei ministeri. E allora che ne sarà dei lavoratori dell'ispettorato del lavoro? Sittin davanti alla sede del lungomare Trieste dei sindacati in una mobilitazione che confluirà in una giornata di sciopero indetta per il 18 marzo. Il personale a Bari chiede attenzione per il lavoro svolto e piccole gratificazioni, anche economiche, per consolidare il senso dell'appartenenza e la propria identità che deriva dalla consapevolezza di aderire ad un determinato gruppo sociale complesso, quale quello della pubblica amministrazione. Hanno dimenticato di inserire per la perequazione dello stipendio con le nuove norme il nostro ufficio a livello nazionale. Da tenere presente che noi svolgiamo un'attività dal punto di vista sociale, andando, ripeto, partendo non ultimo il caso della pandemia. La richiesta è di ricordarsi di inserire per la perequazione di quell'indennità che è stata riconosciuta alla maggior parte dei lavoratori pubblici che ricadono nel contratto delle funzioni centrali, anche e soprattutto i lavoratori dell'ispettorato territoriale del lavoro. Il presidente nazionale di Libera, Don Ciotti, a Bari per sostenere i lavoratori travolti dalla crisi occupazionale. Il regale del vino. La carta dell'inchiarazione del diritto umano è stata calpestata. Abbiamo tradito le carte, le carte le abbiamo tradite. C'è anche lui, Don Ciotti, con i lavoratori della zona industriale di Bari, sceso in strada al fianco di tutti quelli coinvolti nelle numerose vertenze scoppiate negli ultimi mesi. Parla di dignità il presidente nazionale di Libera e di costituzione calpestata, soprattutto in un sud che sconta storicamente uno scarto con i livelli occupazionali del nord Italia e della media europea. Un'emorragia occupazionale significa l'ennesima condanna a un ulteriore impoverimento e a rafforzarsi delle ingiustizie sociali. La sua presenza qui è importante, è un messaggio forte di cui hanno tanto bisogno questi lavoratori. Sappiamo bene che quando scoppia un dramma di questo tipo, poi quel territorio è ancora più esposto, è ostaggio della mafia, della criminalità. Quando c'è tutta questa disperazione, quale via d'uscita è possibile? È un problema urgente, i problemi urgenti ci vogliono delle risposte urgenti. La parola forte è l'urgenza oggi, uno scatto in più da parte veramente di tutti. E dove si creano situazioni di fragilità, di vulnerabilità, la mancanza della dignità, perché il lavoro dà dignità, dà identità, dà vita alle persone, se viene a mancare questo, loro si infiltrono. Tutto aggravato dalla guerra in Ucraina. Perché le spese per le armi sono fortemente aumentate. E quindi diminuite le spese per il sociale, diminuite le spese per l'istruzione del mondo. Sono i dati ufficiali, ma le spese militari, guarda caso, nel momento drammatico sono aumentate. Ma vi prego di non dimenticare anche le altre 33 guerre che ci hanno accompagnato in questi anni, di cui nessuno parla. C'è un conflitto però che augura a tutti. È il conflitto con la propria coscienza. Baritec, Natuzzi, Bosch, Selectica, Amgas, Arca e ancora Ferramenta Pugliese, Italy, Palazzo Hotel, Ex Nova Puglia, BRSI, Saicaf, Spagnoletti. Sono solo alcune delle vertenze che riguardano il capoluogo pugliese. Una grave crisi occupazionale che coinvolge centinaia di lavoratori, mettendo a rischio intere famiglie. È ora di rilanciare il sistema produttivo in modo sostenibile, monitorando il corretto e trasparente utilizzo dei fondi del PNRR. No, chiedono unitamente dai sindacati, ai predatori che creano finte imprese con soldi pubblici e poi abbandonano i lavoratori. Stiamo già lavorando con la regione per tentare di creare un qualcosa in supporto a tutti quei lavoratori, in particolare le aziende che vengono dismesse per quei lavoratori che si trovano poi in mezzo a una strada, un qualcosa in più, dotarli di una dote per tentare di essere appetibili nel mondo del lavoro. Essere qui oggi tra l'altro davanti a un'azienda simbolo di una piaga industriale che è stata appunto la ExoM vuole essere anche però un buon segnale di rilancio, di ripresa, di rinascita di questo importante sito industriale che a breve dovrebbe ripartire con la sua produzione. La zona industriale di Bari Modugno è sicuramente una delle zone più colpite da questa crisi che incombe. I processi di transizione stanno mettendo in seria difficoltà, soprattutto le imprese dell'automotive di questa zona. La vera transizione che noi ci aspettiamo è una transizione mentale, una transizione della politica che trasformi i processi di contenimento relativi al bacino dei voti a dare invece prospettiva industriale a questo settore e a queste persone. Il 21 aprile, che è l'ultimo giorno della cassa integrazione straordinaria, è alle porte e ci sono in bilico 137 famiglie. Quindi la situazione è gravissima, confidiamo nell'intervento di tutti. Un ceninaio di operatori delle forze dell'ordine appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno setacciato il territorio eseguendo perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli a esercizi commerciali nel Foggiano. Arrestate otto persone, altre quattro sottoposte alla sorveglianza speciale, individuati cinque lavoratori impiegati in modo irregolare, due indebiti per settori di reddito di cittadinanza e il bilancio della nuova operazione anticrimine ad alto impatto nella provincia di Foggia. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno setacciato il territorio. Attuato un dispositivo di prevenzione grazie all'utilizzo di numerosi reparti speciali inviati dal Ministro dell'Interno Luciano Lamorgese sul territorio di Capitanata per rafforzare i servizi di controllo del territorio. In particolare a Foggia è stata data esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di una persona di 55 anni condannata per furto commesso ai danni di un'abitazione rurale e un soggetto di 37 anni per il reato di maltrattamenti e atti persecutori. Sempre a Foggia denunciato un uomo di 39 anni che all'interno di un box nella sua disponibilità aveva creato una piccola serra artigianale in cui coltivava diverse piante di marijuana. A Cerignola e Lesina i militari della Guardia di Finanza hanno accertato l'impiego irregolare complessivamente di 5 lavoratori in nero. Infine la questura di Foggia nel contesto generale di rafforzamento dei servizi preventivi e repressivi attuati dopo le direttive impartite dal Ministro dell'Interno Lamorgese in occasione del Comitato Provinciale dello scorso 17 gennaio ha applicato 4 provvedimenti di sorveglianza speciale disposti dal Tribunale di Bari nei confronti di persone socialmente pericolose. Continuiamo con la cronaca furti e danni alle auto. Quattro episodi in due giorni nella BAT. Ce ne parla Antonio Gargano. Furti d'auto, vetture incendiate e pneumatici spariti nella notte. E questo è il bilancio nelle ultime 48 ore nella BAT con quattro gravi episodi che hanno caratterizzato due dei tre capoluoghi di provincia. Barletta è la città più colpita con due casi in rapida successione tra mercoledì notte e venerdì mattina. Prima un incendio di un'auto in zona 167 alla periferia ovest nella notte tra mercoledì e giovedì un uomo ripreso con un cellulare ha piccato le fiamme su una vettura alle spalle di un noto bar cittadino per poi darsi alla fuga a bordo di un'altra macchina appostata nelle vicinanze. Giovedì invece un imprenditore marchigiano che si trovava a Barletta per lavoro ha dovuto constatare il furto della sua vettura. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere che hanno immortalato anche i due responsabili giunti indisturbati sul posto. Anche Trani deve fare i conti con due episodi avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì. Furto di pneumatici ai danni di due auto, uno in via Mossedatrani e l'altro nel centralissimo incrocio tra Corso Cabur e Piazza della Repubblica con l'intervento di una volante dei carabinieri. Nella mattinata la BAT resta terra di conquista nonché prima provincia in Italia per furti e danni alle auto. E si è svolto in Capitanata il primo incontro fra le forze politiche di Foggia e la Commissione straordinaria a seguito dello scioglimento per mafia avvenuto lo scorso agosto. Speriamo ce ne siano di più frequenti, hanno affermato i rappresentanti dei partiti. La città ha bisogno di capire quello che si sta facendo per uscire dal periodo buio. Antonella Davola Un incontro sereno e proficuo, lo hanno definito così le forze politiche del capologo Dauno convocate per la prima volta a Palazzo di Città dalla Commissione straordinaria per un dialogo su questioni di interesse generale che riguardano la comunità. Un incontro a porte chiuse, durato circa tre ore, durante le quali i commissari Magno, Gandolfo e Gian Grande hanno relazionato in merito alle attività sinora svolte, ascoltando le richieste e le riflessioni dei vari esponenti politici, tutti compatti nel chiedere un metodo di maggiore coinvolgimento delle forze sane e operative della città. I temi hanno loro evidenziato e portato sul tavolo quanto in questi mesi stanno facendo per la nostra città. Quindi tutte le misure del PNRR a cui hanno candidato la città, la videosorveglianza, i vigili urbani, il quartiere ferrovia, la villa, insomma tutte misure che saranno, sono alla loro attenzione che verranno portate in cantiere. Noi siamo soddisfatti, speriamo vivamente che questo tipo di incontro e di confronto si possa avere più spesso e anche con le associazioni e con chi lo richiede. Abbiamo altresì parlato del fatto che la Commissione non deve colpevolizzare tutti i cittadini foggiani considerandoli mafiosi, ma deve puntare sulla Foggia per bene, e ce n'è tanta, per i posti apicali, delle partecipate, del Comune. Insomma bisogna ridare fiducia alla Foggia per bene proprio per dare un messaggio di legalità a questa città. È giusto che la Commissione parli con gli atti, però è molto importante quello che è il percorso che porta a prendere determinate decisioni e su questo c'è un coinvolgimento della città. La città ha una parte sana che vuole riprendersi, vuole riprendersi i propri spazi e crede in un futuro migliore ed un miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini foggiani. Consegnate a Bari le stelle al merito del lavoro in 35 insigniti del riconoscimento. Gianni Sebastio Consegnate in prefettura a Bari 35 stelle al merito del lavoro, un'onorificenza che premia perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private. Alla cerimonia di consegna del riconoscimento che si è svolta nella Sala degli Specchi del Palazzo del Governo barese c'erano il prefetto Bellomo, il sindaco De Caro, l'assessore regionale Stea e i sindaci dei comuni di residenza degli insigniti, tutti dell'area metropolitana di Bari. Premiati 35 cittadini che si sono particolarmente distinti nel loro lavoro. Sindaco, un momento celebrativo importante che va sottolineato? È un momento importante anche se lo festeggiamo con le restrizioni, è perché oggi premiamo persone che come dico spesso non sono dei supereroi, però sono gli eroi quotidiani, quello che fanno il loro lavoro con professionalità, con dedizione ed è bello poterlo festeggiare insieme alle famiglie che poi permettono a queste persone anche di raggiungere dei risultati importanti. Un fine settimana, quello della festa del papà dedicato alla prevenzione del tumore alla prostata, open day gratuiti al Policlinico di Bari. Antonella Fazio. Un intero weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata, l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Bari ha aderito all'open weekend promosso dalla Fondazione Onda, osservatore nazionale sulla salute della donna e di genere in occasione della festa del papà. L'unità operativa complessa di urologia, due universitarie di oncologia medica universitaria, offrono visite urologiche per pazienti con età superiore ai 50 anni affetto da questo tipo di patologie o familiarità. Nei loro ambulatori il 18 e il 19 marzo. Il tumore alla prostata è il più frequente negli uomini e conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili. Il bollino azzurro è il nuovo riconoscimento del Policlinico di Bari che identifica proprio i centri ospedalieri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell'ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici volti alle persone con tumore alla prostata. Il problema è rappresentato semplicemente dal momento della diagnosi. Non possiamo più vivere come abbiamo vissuto nel passato, dobbiamo fare prevenzione. Facendo questa diagnosi così precoce, quando la malattia ancora di volume molto piccola, in alcuni casi anche millimetrica, è possibile con varie forme di terapia eradicare la malattia senza gravi conseguenze per il paziente. I ragazzi di Retake ne mettono segno un'altra. Sulle mura del sottopasso di Sant'Antonio nel pieno centro di Bari il murale dedicato al maestro Pierpaolo Pasolini in occasione del suo centenario. Quindi non solo ripulendo le scritte ma portando anche messaggi a tutta la comunità barese e non solo. Sarà terminato, salvo maltempo, il prossimo fine settimana il murale dei ragazzi di Retake Bari dedicato a Pierpaolo Pasolini in occasione del suo centenario. L'immagine del maestro adesso campeggerà lungo le mura che circoscrivono il sottopasso di Sant'Antonio, spesso sotto l'attacco di vandali con tag molto lontane dall'essere street art. Sarà realizzato con vernici in grado di assorbire CO2 ed inquinanti, obiettivo infatti, e anche quello di donare alla città un'opera che possa contribuire alla sostenibilità e all'ambiente. Questo murale che cosa prevede? Oltre a questo primo piano di Pasolini? C'è uno skyline di tutta Bari, verrà poi unita con il colletto tipico di Pasolini in una maniera abbastanza onirica, sognante. L'idea è partita dall'articolo che Pasolini stesso scrisse nel 51 per il Popolo. Quando venne a Bari si trattenne per un breve periodo di tempo, proprio qui nei pressi della stazione, ed è un articolo che appunto metteva in risalto i due lati di Bari, si chiamava infatti, era intitolato Le Due Bari. L'idea è venuta da lì e infatti nel disegno ho provato a mettere in risalto questa doppia faccia, quindi sia la parte illuminata che quella scura di Pasolini e anche poi negli occhiali verrà un'alba barra tramonto a seconda dell'interpretazione che si vuole dare. L'informazione finisce qui, arrivederci.